Diciamo che sono stato inquadrato subito nel distaccamento della divisione SAP Antonio Gramsci nel distaccamento Gatti e con dei compagni di lavoro, praticamente erano tutti loro. Abbiamo iniziato qualche attività subito eccessivamente impegnativa anche se il pericolo esisteva lo stesso. Mi ricordo ad esempio un paio di volte che mi avevano dato dei manifestini da lanciare nei cinematografi e noi quasi con incoscienza diciamo ma anche con passione andavamo in questi film, in questi locali e mi ricordo il Cinema Olimpia ad esempio che adesso non esiste più, adesso al posto del Cinema Olimpia mi pare che c'è una banca e in un secondo tempo al Cinema El Dorado avevamo questo pacchetto di manifestini che inneggiavano la resistenza e anziché lanciarli come avremmo dovuto un po' per timore, un po' per evitare di creare troppo sconquasso e li posavamo sui sedili dei pietatori. Naturalmente era pericoloso anche questo perché se bastava essere osservati o visti da qualcuno saremmo stati denunciati con tutte le conseguenze del caso. Lo facevamo in fretta e furia mentre si proiettava la pelicola al buio e poi di soppiato ce ne andavamo. Queste erano le prime azioni. Poi posso ricordare altre due azioni che abbiamo fatto. Una dovevamo andare a tosare, scusate il termine, una ragazza che aveva la cattiva fama di frequentatrice e di delatrice anche, di partigiani. Un'azione è andata a monte perché qualcuno ha parlato, io non ho mai potuto capire bene, poi non mi è mai stato detto con chiarezza come si era sviluppato. Qualcuno ci aveva fatto la spia, ecco così diciamo. Pur essendoci trovati sul posto ed esattamente in via San Lorenzo, eravamo in otto, mi ricordo, a coppie di due, improvvisamente arrivano i fascisti in borghese. Mi ricordo che era la polizia fascista in borghese. Ci hanno fermato e pensavamo ormai di dover essere presi. Stranamente ci hanno lasciato andare. Io ero di coppia con un mio compagno, si chiamava Manzo, credo che sia tuttora vivente, ma non abita a Savona. E ci hanno lasciato andare. Ho saputo poi così occasionalmente che eravamo stati, una spia aveva prospettato questa nostra azione e i fascisti erano intervenuti. La cosa è stata a monte. Mentre invece era riuscita un disarmo di un tedesco in Piazza d'Armi, e allora si chiamava Piazza d'Armi, dove adesso c'è esattamente il gabbiano. All'altezza del gabbiano c'erano degli alberi. Questo tedesco veniva di notte ad amoreggiare con una ragazza e noi l'abbiamo disarmato, gli abbiamo tolto, aveva la pistola. Faccio presente un particolare che ha un suo interesse. Allora esisteva il coprifuoco, come si sa. Alle otto e mezzo, alle nove, a seconda della stagione non si poteva più uscire di casa. Il comando ci aveva suggerito ad alcuni di noi di andare nella Croce Rossa, che allora ubicava nella piazza della vecchia stazione, sotto i portici. Ci avevano dato un berretto e una fascia e noi quando dovevamo fare qualche azione notturna indossavamo questo berretto e questa fascia e qualora avessimo trovato, cosa che è accaduto una volta, avessimo trovato una pattuglia, noi eravamo giustificati dal fatto che avevamo compiuto un servizio nella Croce Rossa e che, diciamo, si solo guardava da eventuali arresti o che so io. Anzi, qualche volta ci hanno anche detto bravo dopo aver magari fatto un'azione. Voglio ricordare anche le altre due, forse le più entusiasmanti, se così posso dire. Due volte siamo andati, naturalmente comandati, istruiti, siamo andati nella società di Lavagnola, che allora adesso il nome non lo ricordo, adesso è la società di mutuo soccorso. Nelle vicinanze, parlo sempre di notte e qui, parliamo addirittura nelle nove e mezzo, alle dieci di sera, buio completo, ed eravamo una ventina, ci hanno dato degli zaini, prendevamo degli zaini, li mettevamo in spalle, pieni di viveri e di lì in colonna, con una guida, partivamo, andavamo su verso il naso di gatto per portare viveri e armi. Io mi ricordo che due volte avevo, non so se farina o riso, comunque era sicuramente viveri, e li portavamo ai partigiani che ci aspettavano in un punto determinato, scaricavamo la roba e rientravamo a casa, sempre di soppiatto, perché eravamo fuori dalle ore del coprifuoco, eravamo in pieno coprifuoco, ma sempre con quella salvaguardia del berretto, o che so io, riuscivamo a farla fra, almeno l'abbiamo fatta franca.